Ok, buongiorno a tutti. Iniziamo subito con la nostra presentazione per i bandi INPS. Eccoci qua. Allora, vi do il benvenuto in questo InfoMeeting. Vorrei iniziare presentandomi. Io sono Arianna, ricopro il ruolo di Language Consultant all'interno di EFE, dove quindi mi occupo di trovare la destinazione perfetta per realizzare il sogno dello studente in base alla sua personalità e a molte chiamate di conoscenza che effettueremo durante il percorso. Per quanto riguarda i bandi INPS, invece, me ne occupo da tre anni. Questo è il mio terzo anno e infatti adesso vi porterò a scoprire quelli che sono i bandi del 2023. Sono un'ex studentessa, anch'io sono partita con EFE, ho fatto l'anno all'estero e anche due settimane a New York. Qui ci sono alcune recensioni di ragazzi che come me sono partiti con EFE e hanno lasciato una recensione positiva. Cos'è EFE? Perché abbiamo tanti studenti che si trovano bene. Come prima cosa abbiamo uffici in tutto il mondo, in più di 75 paesi. Abbiamo scuole e residenze di proprietà. Ciò vuol dire che è tutto sotto il nome di EFE e non ci occupiamo a terzi, non ci appoggiamo a nessuno. All'interno delle nostre scuole cerchiamo di garantire sempre l'internazionalità, sia delle classi che delle stanze, le aree comuni e soprattutto anche le attività. Per quanto riguarda le classi, all'interno ci sono in tutto 17 ragazzi. Ovviamente capiterà sempre qualche italiano, però i professori cercano di incentivare sempre i nostri ragazzi a parlare la lingua che si sta studiando. Io ad esempio ho un bellissimo ricordo anche della mia classe perché avevo conosciuto una ragazza che viene dalla Danimarca ed è diventata una mia carissima amica. Ne parlo davvero con tantissimo affetto e tutt'oggi ci sentiamo, siamo sempre presenti l'una per l'altra. Io la invitai anche al mio diciottesimo all'epoca, quindi è stata proprio una bellissima amicizia ed è anche bello perché ho modo di continuare a praticare la lingua anche dopo il mio anno all'estero, anche dopo la mia esperienza fuori. Per quanto riguarda invece come classi e lezioni, abbiamo detto quindi sono in tutto 17 ragazzi in una stanza, in una classe scusatemi, con il professore. I corsi personalizzati invece corrispondono a quelli che sarebbero praticamente le classi di specifico interesse. Esse sono appunto classi che mirano a un argomento più specifico, esempio io prendo la lingua inglese, quindi saranno come medicina inglese, sport studiato in inglese, cinema, arte, musica, un po' di queste cose. Come metodo didattico abbiamo appunto i nostri professori che sono lì apposta per far imparare ai ragazzi la lingua con il nostro metodo. Come funziona? Intanto si basano molto 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 su tutto ciò che è interattivo e sulla conversazione, quindi saranno fatti molti role play, andranno fuori, andranno al mercato ad esempio per socializzare con tutti, per parlare con le persone del posto e in un mercato ad esempio possono chiedere quanto costa, quanto pesa, capire come funziona proprio il momento dell'ordine che possono sembrare cose un po' banali, ma in realtà sono quelle che fanno la differenza per imparare la lingua. Un'altra piccola cosa, sempre un piccolo aneddoto, anche all'interno della scuola, quindi del campus, cercano sempre di incentivarti a parlare la lingua del posto. Ad esempio, io quando sono stata a New York mi ricordo che effettivamente avevo fatto amicizia con due ragazze italiane con cui passavo molto tempo e i professori dicevano va bene, ok, non è che ti possiamo vietare di avere questi amici, è importante però che voi pratichiate la lingua. per incentivarci ci davano magari qualche premio, come ad esempio qualche sticker per farci avere dei punti in più e quindi arrivare prima in classe, oppure ci regalavano qualcosa, qualche gadget, insomma, che al momento può sembrare nulla, però quando sei poi lì e ti ritrovi, ti riconoscono la fatica che stai facendo per imparare la lingua e parlarla, quindi sforzarti, ti viene riconosciuto questo dallo studente molto apprezzato. Per quanto riguarda anche altri riconoscimenti invece sono a fine corso, diamo ovviamente ragazzi l'attestato di frequenza e l'attestato linguistico dove viene appunto scritto quale livello si è raggiunto durante quelle settimane. E' importante questo perché addirittura alcune università lo riconoscono proprio come certificazione linguistica, non saprei dire nello specifico quali, però ce ne sono di diverse. Assistenza completa invece parliamo dello staff di EF, perché come dicevo prima abbiamo scuole e residenze di proprietà, quindi staff, persone dell'ufficio e i professori sono tutti sotto EF e ovviamente all'interno della scuola ci sono persone presenti 24 ore su 24, quindi anche se durante la notte uno studente dovesse avere qualche difficoltà, può andare in reception e chiedere aiuto e loro tranquillamente lo fanno. Oltre questo ovviamente quindi stando sempre sotto EF il contatto diretto ce l'ha direttamente la scuola con noi dell'ufficio, di conseguenza il contatto, il dialogo c'è sempre per una qualsiasi problematica, siamo pronti ad aiutare lo studente e a sistemare il problema. Andando avanti invece adesso parliamo dei bandi, ci sono bando e state insieme, partenza di gruppo e partenza individuale. I requisiti per accedervi sono essere finiti dipendenti o pensionati statali e iscritti al fondo e post e ovviamente frequentare le scuole superiori, mentre invece la borsa di studio è di un valore di 2100 euro quest'anno, non più 2000, 2100 e vale ovviamente per due settimane. Come alloggio è possibile alloggiare solo in residenza, con il bando e state insieme non è possibile andare in famiglia, né partenza di gruppo né partenza individuale. Per quanto riguarda il corso di lingua all'estero invece come requisiti abbiamo sempre lo stesso, quindi essere figli di dipendenti o pensionati statali e devono essere iscritti alle superiori, devono frequentare almeno il secondo anno, avere 16 anni entro il 30 giugno, quindi 16 anni compiuti e soprattutto entro il 30 devono avere anche la certificazione B1, quindi se non si ha il B1 della lingua scelta non si può andare, si dovrebbe scegliere un'altra lingua, ad esempio se il ragazzo vuole andare a Tokyo per fare il corso di lingua ma non ha il B1, la certificazione relativa al B1 di giapponese non gli è possibile andare, dovrebbe partire con estate insieme, se invece dovesse averlo di inglese va benissimo quello. Come borsa studio invece è in base alle settimane scelte perché c'è la possibilità di partire per 3, 4 o 5 settimane, è il massimo erogabile di 3.900 euro relativo alle 5 settimane, qui invece è possibile scegliere anche la famiglia ospitante. Come partecipare ai bandi? L'IMS in realtà fa da sé, voi dovete solo inserire i vostri dati, serve l'ISE che deve essere ovviamente già calcolato al momento della domanda, e quindi l'ISE 2023 che lo prende da solo in realtà, e i voti dello scorso anno scolastico, lo prende da solo quando è già stato calcolato, e i voti dell'anno scorso anche quelli li prende autonomamente inserendo, voi dovete semplicemente inserire il nome della scuola. Per avere ulteriori informazioni su come fare domanda, sul bando troverete a pagina 9, articolo 6, le istruzioni per presentare domanda. Ok? E questo è per quanto riguarda i bandi. Per quanto riguarda invece le scadenze, abbiamo, allora, intanto il bando è uscito il primo marzo, si può fare domanda entro le ore 12 del 27 marzo, non oltre, quindi già il 27 marzo pomeriggio non andrebbe bene. Le gladiatorie verranno pubblicate il 14 aprile, e i documenti dovranno essere caricati entro l'1 maggio, questo lo dovrete fare voi, perché quest'anno, anche per l'estate INPSM, sarà tutta una pratica tra cliente e INPS. I ripescaggi avverranno il 5 maggio, e per i ripescati i documenti dovranno essere caricati entro il 19 maggio. Per quanto riguarda invece i pagamenti, viene fatto in tre versamenti. Il primo, ve lo chiediamo subito dopo l'iscrizione praticamente, consiste nella quota a vostro carico, ovvero la differenza tra pacchetto e borsa studio. Una volta che poi caricati i documenti, passa maggio, arriva giugno, entro il 9 giugno ricevete quella che è la prima parte della borsa studio, quindi metà borsa studio, e entro il 9 giugno, scusatemi, e ce la girate. Passa poi l'estate, caricate i successivi documenti, passa settembre, e entro il 25 ottobre riceverete la seconda parte della borsa studio, e ci girate anche quella, e così poi andiamo a saldare il conto. Ok, nel frattempo cosa comprende pacchetto F? Ovviamente ci sono le spese di apertura pratica, le spese dell'assicurazione medica e del viaggio, la copertura annullamento che vale fino a 60 giorni prima della partenza. Se dopo i 60 giorni prima della partenza si dovesse annullare per qualche motivo il viaggio, parlandone con un consulente poi si vedrà tutto, quindi se ci dovessero essere penali o no, il motivo dell'annullamento e tutto il resto. E' compreso ovviamente il costo del corso di lingua, l'alloggio, i testi didattici, il materiale didattico, il volo, andate e ritorno, e per quanto riguarda invece le partenze di gruppo sono comprese anche le attività. Ovviamente sia nel corso di lingua che nel bando di Stati Insieme è compresa anche la pensione completa. Ci sono dei servizi aggiuntivi che abbiamo noi di F, ovvero la partenza da tutta Italia, ci sono degli aeroporti principali come ad esempio Catania, Palermo, Napoli, Venezia, Bari, insomma c'è poi la lista esatta, la potrete vedere tramite il sito della preiscrizione, da dove noi prendiamo il volo o il collegamento per condursi al gruppo oppure arrivare a destinazione. Vengo e mi spiego, se con la partenza di gruppo dove partono o da Roma o da Milano, prendono una ragazza di Catania, una ragazza di Catania è il gruppo che si riunisce a Roma e devono andare a Londra. Da Catania a Roma prendiamo noi il volo senza nessun costo aggiuntivo, è una cosa in più che offriamo. A Roma poi si riunisce con il resto del gruppo e insieme partono per andare a Londra. Se invece la ragazza dovesse fare da Catania un volo individuale, le prendiamo il volo da Catania direttamente a Londra, quindi una volta che poi, questo però senza accompagnatore, e una volta che poi arriva a Londra troverà lì lo staff di F ad accoglierla e ad accompagnarla in residenza. Una volta che poi, quando la ragazza arriva, comunque è molto semplice riconoscere il nostro staff perché hanno sempre la maglietta fucsia con scritto F, oppure un cartellino, i pompon, si fanno riconoscere, insomma. Un'altra cosa che noi offriamo è un nostro portale che si chiama Campus Connect. Tramite questo portale avranno modo, uno di vedere prima della partenza, di vedere il loro itinerario del viaggio, avranno anche modo di vedere circa un mese prima della partenza quali sono le attività proposte dalla scuola, così da farsi già un'idea di quello che sarà la giornata tipo in loco. E poi avranno modo di vedere anche le lezioni una volta che iniziano, quindi avranno il programma sull'app. Tramite Campus Connect avranno anche poi modo di partecipare delle attività didattiche online, sia prima partenza che post rientro fino a sei mesi, questo però è disponibile solo per la lingua inglese. Un'altra cosa, tramite Campus Connect daranno la possibilità di effettuare un test per che serve la scuola, in modo tale da poterli inserire nella classe di livello più adatta a loro. Adesso vi faccio vedere un piccolo video per le nostre destinazioni. Grazie. Allora, queste in realtà non sono le destinazioni di gruppo, sono destinazioni sia per individuali che gruppo. Poi, quando starete in contatto con un consulente, saranno loro a dirvi quali sono per individuali e quali sono per i gruppi. Abbiamo però tantissime nuove destinazioni, come ad esempio Seul, Tokyo, anche Città del Capo, insomma, hanno riaperto un po' di scuole, quindi stiamo cercando di dare la possibilità a tutti di scoprire anche questi nuovi paesi. Per vedere, tra l'altro, quali possono essere le attività, scusatemi, quali sono i prezzi per ogni destinazione e data, potete farlo tramite il sito della prescrizione, che ha come prima pagina una simulazione di preventivo. Quindi, scegliete la destinazione, scegliete la data e vi dirà il prezzo. Ok, se dovesse esserci ovviamente qualcosa che non vi torna, comunque parlando con un consulente si può tranquillamente risolvere tutto. I nostri numeri sono questi. Questo è il telefono, è il numero del centralino IMSS, nostro, EF IMSS, quindi una volta che chiamate questo, vi risponderà subito un consulente che si occupa dei bandi. La mail è questa. Invece, il numero WhatsApp, che è attivo da qualche giorno, aperto e sempre attivo, e anche lì risponderemo direttamente noi. Una volta che poi i ragazzi partono, invece avranno anche un numero di emergenza che è attivo 24 ore su 24, 7 su 7. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono domande adesso vi diamo spazio. Per chi invece non ha domande, ci sentiremo presto. Grazie.